io aggiungo tutto quello che rimane no questo è altro dentifricio ma non si può fare anche questo è il dentifricio wow questa è colla però ciao a tutti lui è lui e lei sui e benvenuti in un nuovo daily vlog come potete vedere qui davanti a noi oggi abbiamo tantissimo dentifricio starete pensando la vostra bocca è diventata esplicabilmente gigantesca e anziché avere 32 denti e me ne sono spuntati 85.000 no non abbiamo nessun problema ai denti nessuna carie e non dobbiamo andare dal dentista abbiamo qui questo dentifricio per fare una tra le challenge più epiche di questo canale ovvero la non scegliere il dentifricio sbagliato challenge sembrano tutti uguali degli innocui e semplici tubetti di dentifricio ma in realtà all'interno alcuni di essi contengono gli ingredienti per fare la slime infatti abbiamo qui delle pirofile e dei scovolini per mescolare per fare il nostro slime pensavate questi fossero i bastoncini per lavarci i denti con il dentifricio in realtà no quindi lo scopo di questa sfida è andare a fare lo slime e quindi dovremo cercare di scegliere il tubetto di dentifricio in cui c'è l'ingrediente per fare lo slime e non invece quello in cui c'è del semplice dentifricio quindi ci sarà il tubetto con la colla quello con la colla e con i brillantini quello con liquido per lentine e sarà la bravura di noi challengers scegliere quelli giusti anche perchè alla fine il vincitore sarà proprio colui che avrà realizzato il miglior slime quindi direi di non perdere un altro tempo e iniziare ma prima mi raccomando iscrivetevi al nostro canale perchè ogni giorno c'è una nuova pazza avventura da vivere insieme scopriamo chi inizia mi raccomando lì stavolta non dobbiamo fare lo stesso segno ogni volta carta forbici a pietra oh inizio io quindi in teoria dovrei essere avvantaggiato perchè ho maggiore scelta si quale prendo sbaglia 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 in realtà andrò a caso perchè non ho idea di quale scegliere questo sarà giusto sarà sbagliato chi lo sa vado si è la colla guardate che figo tra l'altro la colla è di un colore bellissimo tutta rosa si all'interno c'è anche un pochino di dentifricio guarda qui sei sempre fortunato inizio alla grande usiamo questo vedi via tocca a te adesso ma come faccio a scegliere sembrano tutti uguali non lo so eh non lo so andrò anch'io a caso mi sa che scelgo questo avrà fatto la scelta giusta la nostra caciofina non lo so andiamo nooo ha preso il dentifricio è stupida anche se questo dentifricio ha un colore bellissimo si a parte il colore comunque anche la consistenza mi sembra molto gelosa quindi qualora mi capitasse il liquido per lentine secondo me verrebbe lo slime ma cosa liquido per lentine e dentifricio non si fa mica così lo slime? e ho capito però questa dentifricio è particolare è tipo un gel si vabbè è impazzita ragazzi vedremo vedremo si io intanto qui ho la mia colla rosa che aspetta solo di ricevere altra colla devi smetterla di essere così fortunato ok? va bene ho sporca tutta il dentifricio stupido dentifricio tocca a me scegliere un altro dentifricio e prenderò questo qui è molto pesante mi sa che ho sbagliato ti prego ma che non è il dentifricio nooo si è un super dentifricio che cavolo tra l'altro non è niente colorato è proprio bianco ahahah ben ti sta andrà a rovinare tutta la mia colla ok spremi spremi tutto via vai il dentifricio ok tocca a me questo yes mi sa che avrà preso un altro dentifricio ragazzi non lo capisco nooo ha preso la colla si è la colla tra l'altro blu guardate che figa è che lo stesso colore del dentifricio all'inizio ero triste perchè pensavo fosse dentifricio invece no è colla color dentifricio ma sicuro sicurissima ok ce la posso fare lui puoi recuperare ancora hai tanto la colla hai il dentifricio bianco i colori stanno bene insieme quindi ti prego fortuna dai con la colla questo non è tanto pesante forse ho fatto la scelta giusta ahahahahah ho preso il liquido perlentine camera sto scherzando ovunque dobbiamo veramente però guardate qua ma quanto ce n'è vai tutto 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 ne è sempre abondante il liquido perlentine ok qualcuno qui mi sa che sta per vincere la sfida ahahah vabbè ma tu ti puoi la mettere comunque lo slime bellissimo si vabbè bellissimo si perchè dovete sapere che il liquido perlentine è fondamentale affinchè riesca lo slime a me moltissimi ci dite sempre non so perchè il mio slime non viene molto probabilmente perchè mi sarei dimenticati quel coso lì che lui ha già spero di essere fortunata su su scegli dai voglio vedere cosa sai fare questo è molto pesante mi sa che è un altro dentifricio ahhh 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 ooooooooh ehhh dentifricio grande Sophie così ti voglio si ma perchè però è un bel colore si è un bel colore se solo non fosse che non si può unire con la colla che strano mix di colore blu bianco e rosso adesso scelgo io scelgo scelgo non puoi toccarli giù le mani tocco quanto mi pare piace scelgo tè non c'era niente qui in mezzo vabbè prendo lo tè oh 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 qualcuno che ha preso di nuovo la colla vabbè ragazzi che direi io me ne vado quindi ciao posso lavarmi i denti però perchè ho tantissimo dentifricio guardate qui quanta colla abbondante giù 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 questa colla è viola particolarissima Perfetto ôiì vabbè inh facciamo cambio non ci penso proprio tocca a me chissà quale dentifrice aggiungerei adesso alla tua schich electezzi questo che devo dirle che molto leggero quindi mi sembra brio perché all'interno non c'è dentifrice ma c'è qualcos'altro e non lo so scopriamolo oh si e vai verrà spaccando tutto zampilli ci siamo quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare ultimo giro di tubetti scelgo te cosa sei dentifricio cola ma sono davvero fortunatissimo a questo gioco verrà proprio lo slime il più bello di tutti i tempi questa colla qui come potete vedere è azzurra si perchè tra l'altro sta pure prendendo delle colle belle che formano un bellissimo colore insieme ok vai tocca a te ma no che stai barando? non sto barando per niente sicuro che non hai gli occhiali per la vista non c'ho niente che vista ragis dai prendi il tuo slime anzi ti aiuto io nella scelta scegli un dentifricio e lavati i denti no non voglio scegliere un dentifricio scelgo lui posso cambiarlo? prendo questo prendo questo puoi cambiarlo? che poi anche questo è un dentifricio no aspetta cos'è non lo capisco dentifricio ma sembra polla è come il primo è tipo gender ops e vabbè dai un po' di cosa c'è comunque hai tanto dentifricio ma c'è liquido per lentine quindi chissà se non riesce lo spero tanto quindi è giunto il momento della verità andiamo a mescolare non verrà mai un mio però ma sai che comunque ha il suo perché? il mio in realtà non si sta unendo così facilmente ma perchè comunque il dentifricio a contatto con il liquido per lentine si scioglie diventa appunto acqua qui sta diventando melma eh si ragazzi non si sta formando lo slime non si sta formando niente nooo ma com'è possibile? allora è una consistenza strana quello si forse devo fare più forte si ma io ho un sacco di colla com'è possibile? ma ho aggiunto il liquido per lentine la colla solo un pochettino di dentifricio eh eh sai com'è mannaggia mannaggia io aggiungo tutto quello che rimane no questo è altro dentifricio prima non si può fare anche questo è il dentifricio e tu cosa sei? il dentifricio mi sa che abbiamo utilizzato tutta la corrente per fare lo slime wow questa è colla però andiamo anche a me si la colla gialla l'avete mai vista? è stranissima la colla degli alieni questa no non riesce perché ho troppo dentifricio e lo fa sciogliere se si forma lo slime e poi si scioglie col dentifricio guardate qui è proprio il liquido neanche io ce l'ho fatta una pappetta una pappetta niente lui abbiamo fallito siamo due lose entrambi ma com'è possibile quindi significa che sia io che tu abbiamo perso la sfida io ancora un pochettino ci credo qui bene ci dovremo rifare in un'altra sfida allora fatemi sapere se questo video vi è piaciuto lasciando un commento e un like noi passiamo a salutare l'abbonato di oggi che è Astrid e pappicelli e mandiamo un bacione a tutti voi ci vediamo domani ciao ma come fa ad uscire a righe? non lo so è a righe wow non ci avevo mai fatto caso ciao